Nel video di oggi ragazzi parleremo del sistema di ricarica per auto elettriche V2C Tridan è un prodotto innovativo che ha delle caratteristiche anche uniche e importanti ci tengo ad escriverlo, è un prodotto veramente di qualità là dove parcheggiate la vostra auto elettrica quindi che sia il box, una tettoia piuttosto che il capannone ebbene installare questo prodotto a muro vi dà la possibilità di caricare l'auto dalla vostra rete e non solo dalla rete perché ha diverse importanti compatibilità ebbene ragazzi il tempo di iscrivervi a questo canale e partiamo subito con la descrizione, la recensione, l'unboxing di questo prodotto buona visione ebbene non ci resta che aprire il nostro prodotto, l'ho posizionato in verticale perché sarà la sua posizione naturale quando sarà installato sul muro del vostro, lo dicevo prima, garage piuttosto che la vostra tettoia dove parcheggiate l'auto elettrica questo è il prodotto come si presenta, molto sobrio, molto elegante adesso avvicinerò la telecamera per andare a vedere tutti i dettagli dei cavi, delle connessioni in modo da iniziare questa descrizione dopo di che partiremo con tutti i dettagli tecnici buona visione ho appoggiato il charger su questo supporto mobile per farvi vedere qual è la sua posizione originale una volta installato sul muro e la prima cosa che faccio con qualsiasi cosa acquisto che ha la pellicola di protezione e qui c'è anche scritto remove this label dobbiamo andare a togliere questa pellicola protettiva e l'aspetto cambia ricordo ancora quando ero giovane e c'erano persone che acquistavano la lavatrice e lasciavano la pellicola per anni e dicevano sai se poi la vendo sembra ancora più nuova nonostante sia usata ebbene ragazzi è una cosa che io detesto è molto bello, molto elegante, sobrio, minimalista e quindi richiama un po' tutti quelli che sono oramai quelle che sono le tendenze sia delle auto che dei telefonini che hanno questa linea molto elegante ragazzi questa è la sua posizione originale e la prima cosa che viene all'occhio è il cavo spiralato ragazzi il cavo spiralato ha una comodità incredibile perché immaginate di avere 4-5 metri o 6 di cavo lungo che avete sempre in mezzo ai piedi questo chiuso è 1,5 metri cioè rimane veramente su se stesso potete già calcolare l'altezza del posizionamento in modo da non farlo strofinare per terra e una volta esteso arriva a 4 metri e mezzo la comodità c'è ed è un cavo come contrassegnato e stampigliato qua proprio sulla gomma è un cavo 3x6 mm quadri quindi ci sono dentro 3 cavi da 6 mm quadri e insieme a questi 3x6 c'è anche un cavo da 0,5 mm quadri all'interno ci sono tantissime cose intanto la presa è una presa C bella, fatta molto bene con la sua protezione in gomma e che viene innestata sul lato del caricatore c'è un manuale ragazzi che spiega nei dettagli le funzioni primarie sia del prodotto che dell'installazione e questo è molto utile però sul sito dell'azienda trovate anche il manuale online di tutta l'installazione delle caratteristiche oltre ovviamente a tutto il catalogo degli accessori aggiuntivi che potete acquistare ci sono due chiavi proprio perché il prodotto viene chiuso a chiave e dà la possibilità quindi di non essere non tanto manomesso perché il vandalo che arriva fa sempre danni a casa nostra quanto se avete ragazzi, bambini eccetera non vanno ad aprire perché qua dentro ci sono le strumentazioni elettroniche il differenziale, il magneto termico tutte le connessioni quindi chiuso e protetto sul lato attenzione qui adesso avvicinerò la telecamera per vedere anche i dettagli esterni e interni sul lato ci sono due pulsanti che hanno la funzione di farci utilizzare questo prodotto senza il telefonino perché questo è configurabile anche su wifi quindi noi possiamo gestire la carica come vogliamo con questi due tasti facciamo tutto manualmente tranne alcune funzioni minime ma però possiamo veramente gestire tutto il prodotto immaginiamo se va via la rete wifi non abbiamo connessioni e tutto può accadere oggi abbiamo la possibilità manualmente di andare a sfruttare tutte le funzioni nella confezione c'è anche una pinza amperometrica e questa viene inserita su questa che è un piccolo box che viene dato in dotazione e a trasmettere attraverso il cavo RJ45 il tutto all'interno del nostro charger la cosa importante è che qui avete una pinza amperometrica quindi andiamo su una fase ma questo può funzionare anche con la trifase quindi con tre pinze amperometriche connesse qua dentro andiamo a gestire tutto il nostro prodotto il nostro charger in termini di gestione della carica la cosa bella è che qui sempre in questo box ci sono anche gli ingressi per il fotovoltaico ovvero le pinze amperometriche del fotovoltaico vengono gestite in modo da dare le priorità di carica abbiamo ad esempio uno scambio sul posto e vogliamo caricare con priorità rispetto alla rete ebbene questo è fattibile attraverso questo prodotto adesso avvicinerò la telecamera per farvi vedere all'interno cosa c'è e come è stato costruito e progettato buona visione bene abbiamo avvicinato la telecamera questa è come vi facevo vedere la presa C classica è molto ben fatta anche i materiali sono insomma le gomme sono tutte morbide è importante non è un prodottino economico e questa viene inserita in questa posizione vedete quando noi inseriamo c'è un clac che rimane posizionata vedete a questo punto quando ci serve noi abbassiamo la pinza si sgancia e la possiamo utilizzare nell'auto questo è il primo aspetto che volevo farvi vedere adesso apriamo il prodotto attraverso la chiave e vediamo l'interno ebbene nella parte posteriore togliamo la pinza di connessione abbiamo l'alloggio per le chiavi con le quali possiamo aprire il nostro charger e vediamo all'interno che cosa c'è qui vediamo ragazzi tutta la strumentazione avviciniamo ulteriormente la telecamera per descrivere i vari componenti questo è l'interno di questo charger che come vedete è un monofase se invece volete acquistare il trifase all'interno avrà la tripla connessione appunto per le tre fasi allora ragazzi qui iniziamo sullo sportello vediamo che c'è proprio la scheda di gestione del nostro charger qui vediamo anche una pila tampone qua vediamo la connessione dell'RJ45 quindi il cavo che serve proprio a connettere il box che vi avevo fatto vedere all'inizio qui c'è l'RJ quindi questo cavo e qua ci sono gli ingressi di tutti i jack per le pinze amperometriche appunto questa pinza amperometrica che vi ho fatto vedere nella confezione questa serve proprio è un sensore che serve per il controllo delle correnti in corrente continua viene quindi interfacciata a questo piccolo box insomma tutto avviene in maniera elettronica c'è il wifi ci si connette al telefonino e qui sul lato destro vediamo la fase elettrica ovvero questo differenziale con magneto termico è un C40 quindi 40 ampere di gestione tutti i cavi insomma di una certa dimensione questi sono tutti 6 mm quadri è un prodotto semplice ma ben studiato l'elettronica all'interno è tutta la progettazione dell'azienda che è in continua espansione e soprattutto una delle mission di questa azienda è quella di soddisfare anche tutti gli ampliamenti futuri di questo prodotto non è un prodotto finito qui difatti quelli che saranno tutti i gadget e i prodotti aggiuntivi che vedremo in futuro su questo prodotto servono proprio a creare l'evoluzione continua che c'è sul mercato per creare comodità e comfort per coloro che decidono di acquistare questo charger se ci spostiamo sul lato del prodotto vediamo che c'è una pulsantiera questi due pulsanti up and down servono proprio a gestire tutte le funzioni che possiamo chiaramente vedere sullo schermo questo qui che c'è sul frontale ebbene attraverso questo piccolo schermo noi andiamo a modificare come se fossimo sul telefonino in wifi e questo è molto comodo quando qualcosa non funziona su wifi e noi dobbiamo andare a fare delle modifiche all'interno del nostro charger una volta installato il prodotto c'è anche in dotazione questa protezione materiale plastico che va a chiudere completamente la parte elettrica di potenza quindi diventa un'altra protezione difatti in dotazione ci sono anche 5 vitine che vanno a posizionarsi per bloccare questo foglio di acetato o plasticlass che vi ho fatto vedere ebbene voglio adesso descrivervi alcuni aspetti fondamentali qui c'è l'impostazione anche del timer con il costo del provider che avete scelto in modo da avere sia in tempo reale che poi in differita tutte le statistiche su quanto avete speso per ricaricare l'auto vi ricordo che questo apparecchio è configurabile in wifi quindi dal telefonino voi vedete tutto avete tante funzioni che sono veramente utili e oggi onestamente quando hanno macchine elettriche si cercano anche tutte queste funzioni di comodità serve anche a supervisionare i costi ed è una cosa fondamentale perché oggi su questo canale si punta ad azzerare la bolletta voi andate a vedere attraverso già le pinze amperometriche che avete posizionato sull'impianto andate a visionare quello che è il prelievo dal vostro fotovoltaico piuttosto che dalla rete le funzioni sono tante potete prelevare solo dalla rete solo dal fotovoltaico creare un mix quindi se andate sul sito ci sono veramente tanti dettagli per approfondire questo prodotto e anche il sito, nonché il manuale nonché le schede tecniche sono state realizzate da questa azienda in maniera veramente dettagliata in italiano questa è una cosa fondamentale per andare a capire perché non tutti sono anglofoni una cosa importante è che potete attaccare anche gli scelli quindi con lo scelli con le pinze amperometriche della scelli avete il controllo domotico di questa apparecchiatura se preferite potete acquistare il prodotto trifase quindi con lo slot trifase e il relativo box con le pinze amperometriche per andare a tenere tutto sotto controllo questa azienda è molto importante sul territorio europeo e hanno anche le colonnine questa è una cosa che esula da questa recensione loro hanno le colonnine per la ricarica della macchina quindi se siete in realtà un'azienda o volete posizionare colonnine nel vostro capannone nella vostra azienda eccetera c'è anche questa possibilità quindi l'ho detto per invitarvi a visionare il loro sito che è molto approfondito molto più di quello che in una recensione si possa dire vi ricordo una cosa importante questo prodotto adesso viene venduto con lo sconto del 10% sotto al video c'è il link con il codice ENERGIA FAI DA TE ebbene cliccando su questo link vi fa entrare nel loro sito avete tutti i dettagli e se acquistate avete lo sconto del 10% che non è assolutamente poco come dicevo nel video la funzione V2 Smart Lock o l'orologio sportivo eccetera servono proprio a gestire quello che sono il bloccaggio lo sbloccaggio all'avvicinamento dell'auto la Tesla ha questa funzione quindi è un'altra cosa aggiuntiva che è stata studiata in questo prodotto una recensione sempre sintetica se avete tante domande curiosità perplessità fatele tutte sotto i commenti perché come sapete rispondo sempre a tutti quindi ogni forma di cultura aggiuntiva di cui avete bisogno verrà soddisfatta al di là di questo video sotto i commenti quindi mi raccomando siate partecipativi e curiosi senza titubanze cioè io sono qui apposta per rispondere come al solito l'avete visto su questo canale costantemente questo prodotto può essere integrato con Google Home e Home Assistant quindi è una funzione è un gadget domotico che piace a molti di voi lo so perché anche su Bestione Arancione siete già partiti siete in stadio avanzato per ciò che riguarda proprio la connessione con Home Assistant quindi per coloro che sono appassionati di queste funzioni ebbene avete anche questa possibilità vi ricordo in conclusione il link si trova qua sotto scrivete nei commenti tutte le domande che avete da fare mettete un like iscrivetevi al canale le solite cose che noi youtuber diciamo sempre e spero che questa recensione sia stata di vostro gradimento come al solito e ci vediamo al prossimo video iscrivetevi a questo canale ragazzi alla prossima